Ben 231 passaggi abusivi nelle aree pedonali di Piacenza, in un anno, in un mese, in una settimana, no, in un giorno, nell'arco di 24 ore. Sono numeri da capogiro quelli che riguardano il transito sregolato delle auto in centro storico. Il quadro emerge da un monitoraggio della Polizia Municipale, effettuato prima delle elezioni, che adesso è stato consegnato al neosindaco Katia Tarasconi. Attraverso le nuove telecamere agli accessi delle zone vietate ai veicoli, non ancora entrate in funzione, il comando di via Rogerio ha fornito un documento dettagliato all'amministrazione comunale. Ad oggi l'impianto di lettura targhe non è attivo, ma nei mesi scorsi, per l'esattezza lunedì 11 aprile, le forze dell'ordine hanno acceso gli occhi digitali per stimare il traffico fuori legge in centro storico, senza emettere le multe. Durante una singola giornata, su un totale di 231 passaggi abusivi, solo 82 hanno coinvolto persone residenti in città. Sulla carta i punti sotto controllo sono cinque, tre nei pressi di Piazza Cavalli e due sul corso. Quattro telecamere sono pronte e collaudate, come conferma il comandante della Polizia Municipale Mirko Mussi, in attesa del via libera politico per l'attivazione, ma un'altra all'angolo tra via Mazzini e via Cittadella, aggiunge Mussi, risulta mancante, in seguito ad alcuni ritardi tecnici. Il sindaco Tarasconi rimarca l'intenzione di tutelare il cuore urbano di Piacenza dal transito illecito dei veicoli. C'è troppo caos, dice il primo cittadino. Bisogna assicurare più ordine e decoro. L'obiettivo sarà quello di posizionare una segnaletica chiara e comunicare al meglio le norme in sinergia con i commercianti. Va detto che si tratta di un problema annoso. Da tempo molti piacentini chiedono il rispetto del salotto della città durante le ore della Movida in un solo, a causa dei passaggi abusivi e delle soste selvagge sul selciato della piazza. Risale a quasi un anno fa l'installazione delle telecamere agli accessi delle aree pedonali. Nel novembre del 2021, dopo l'avvio dell'iter burocratico, l'ex Giunta Barbieri aveva proceduto al posizionamento degli occhi digitali per una spesa complessiva di 250.000 euro all'interno di un appalto comprensivo di schermi luminosi ai varchi della ZTL. Ad oggi però l'impianto non è ancora attivo.